Ciao, come state? Oggi, in questo video, parlerò poco. Sarà più che altro un video di movimenti delle mani e qualche scricchiolio qua e là. Dato che siamo vicini alle feste natalizie, ho pensato che sarebbe stato carino giocare un po' con le dita in mezzo ai nastri dei pacchi regalo. Ne ho conservati qui alcuni, i più belli che ho trovato, ma non sono neanche tutti. Questi sono in stoffa e carta plastificata. Questo vi piace? Grazie. 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 Sochi spiagno, quest'altro fiocco, invece, io lo trovo adorabile. Una retina plastificata, niente di che, ma sicuramente d'effetto in un bel pacchettino e questo nastro dorato lo trovo super chic e si abbina pure alla mia maglia di oggi ma questo non c'entra molto adesso non c'entra molto più non c'entra molto più non c'entra molto più oh e questi stupendi il bordeaux e questo bel color perla li ho trovati insieme in un delizioso pacco regalo come sono delicati e morbidi adoro toccare la seta è così avvolgente non c'entra molto più 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 poi ho questo in tessuto giallo era abbinato ad una bellissima rosa anche quella in tessuto è lunghissimo guardate qua guardate qua Grazie a tutti. Anche questo in tessuto, fucsia, il mio colore preferito, più o meno simile allo smalto che ho oggi sulle unghie della mano sinistra. Lo so a cosa state pensando, non ci assomiglia per nulla questo smalto. Purtroppo è uno smalto fluo, non è la prima volta che ne metto uno ma vi assicuro che dal vivo fa tutto un altro effetto. Credo che nessun obiettivo e nessun display riesca a captare tali colori, tali iridescenze. Beh, li rimetto tutti dentro nei sacchettini. Nel frattempo. Grazie. 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 Gargica. Grazie. 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 Arrata. Grazie. 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 Grazie.